Nessuna trattativa con i facinorussi, le società devono rompere con aggregati che vengono chiamate tifoserie. A parlare il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano commentando quanto accaduto in occasione della finale di Coppa Italia sabato a Roma. Il Capo dello Stato ha usato parole durissime, ho sentito molti propositi e forti affermazioni da parte del Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno ha detto che non bisogna trattare con i facinorussi. Questo è vero, vogliamo tornare a immaginarci un mondo del calcio qual è e come deve essere, uno sport, un gioco, una competizione ma anche un grande spettacolo. E' questo il mio augurio, che si facciano i passi necessari. Il Presidente della Repubblica ha poi aggiunto che quello di sabato non è il vero calcio e per affrontare la situazione che si è creata occorrerà molta severità e interventi su vari piani. Il calcio deve tornare a essere sport, competizione, spettacolo e rito collettivo. C'è perfino qualcuno che ha il coraggio di invocare la liberazione di chi è stato condannato per l'uccisione di Raciti, ha proseguito Napolitano riferendosi alla maglietta indossata da Genia Carogna con la scritta Speziale Libero. Il Capo dello Stato, rivolgendosi idealmente alla vedova Raciti, aggiunge, le sono vicino come tutti gli italiani onesti. Intanto il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, è tornato sul tema del tifo violento. Non facciamoci prendere dall'onda delle emozioni, facciamo finire il campionato, poi il governo interverrà. Il calcio non lo lasceremo a quelle persone, non lo lasceremo ai vari Genia Carogna, lo ridaremo alle famiglie. Parlare con gli ultra è stato un errore, ha detto, ma è vergognoso usare questi temi ai fini elettorali. Diciamolo con forza, perché lo Stato c'è, Speziale non è libero, Speziale sta in galera perché ha ucciso un uomo. I delinquenti non stanno negli stadi, stanno in galera. Poi l'annuncio di Renzi. Tra giugno, luglio e agosto convocheremo le società e porteremo un principio fondamentale. Le società di calcio dovranno anche prendersi cura del pagamento dell'ordine pubblico. Non voglio che paghino i cittadini. In estate si discuterà anche dell'ipotesi del Daspo a vita, ha precisato il Premier, che ha quindi invitato le forze politiche a non speculare sui fatti di sabato ai fini elettorali. E' giallo sull'esame dello Stub che rileva la presenza di nitrati sulle mani di che ha usato un'arma da fuoco e al quale Daniele De Santis è stato sottoposto domenica mattina. Ieri veniva dato per positivo, oggi risulterebbe negativo. Sulle mani dell'Ultra non ci sarebbero tracce di sparo. La risposta è giunta dalla polizia scientifica ed è stata comunicata al PM Antonio Di Maio. De Santis ha sempre negato di aver sparato, ma resta indagato per tentato omicidio alla luce di altri elementi in mano agli inquirenti. L'udienza davanti al GIP, che dovrà decidere sulla convalida dell'arresto, è prevista per mercoledì. Tre testimoni sostengono infatti di avere visto De Santis sparare contro i supporter del Napoli, tornati poi a vendicarsi con le spranghe dopo il lancio dei petardi dei giallorossi. Ed intanto, stando a quanto trapela da Roma, si sarebbero aggravate le condizioni di salute di Ciro Esposito. Il giovane napoletano infatti sarebbe stato operato d'urgenza nella notte per una setticemia. A dichiararlo è la zia di Ciro Esposito. Io stavo facendo compagnia a mia cognata, la mamma di Ciro, quando siamo state avvisate dai medici dell'intervento. L'operazione è durata circa quattro ore, è iniziata a mezzanotte e si è conclusa intorno alle quattro del mattino. Con una nota intanto l'avvocato Angelo Pisani, che con il fratello Sergio e con la camera penale partenopea ha assunto gratuitamente la difesa del tifoso napoletano ferito dopo gli scontri pre-partita di Coppa Italia, fa sapere che nessun provvedimento di fermo è stato finora notificato ad Esposito. Ci auguriamo anzi che i due esponenti delle forze dell'ordine presenti in ospedale siano stati inviati a piantonare Ciro per tutelare la sua incolumità ad eventuali ulteriori attacchi. In ogni caso rispetteremo qualsiasi iniziativa della magistratura e tuteleremo Ciro Esposito se sarà necessario con tutte le indagini difensive previste dalla legge. E stasera si torna a giocare allo Stadio San Paolo. Napoli e Cagliari si sfidano in un match che potrebbe dare la matematica certezza alla squadra di Benitez di qualificarsi ai preliminari di Champions League. Si prospetta comunque una serata sobria al San Paolo, niente festeggiamenti particolari dopo i gravi incidenti del pre-partita. Gli azzurri entreranno in campo con la Coppa Italia prima del riscaldamento. Un giro di campo sulla pista di atletica, tutto si esaurirà lì, cioè nel giro di una decina di minuti. Il trofeo verrà mostrato ai tifusi delle curve, dei distinti e della tribuna. Il programma che avevamo già allestito è stato totalmente annullato, ha spiegato il dirigente azzurro Alessandro Formisano. Insulti e proteste all'arrivo a Napoli del segretario della Lega Nord Matteo Salvini. Un gruppo di napoletani ha urlato contro di lui parole come buffone, battene, lavati con il fuoco ed è volato anche qualche spintone. Dopo aver risposto a qualche domanda dei cronisti, il segretario della Lega Nord è risalito in auto ed è andato via senza tenere il previsto intervento in piazza Carlo III. Gazebo smantellato dai militanti e niente comizio. Per l'agitazione che si è creata intorno all'evento visto da molti come una vera e propria provocazione da parte del numero uno della Lega Nord. Prima di giungere a Napoli Salvini era stato a Salerno, il segretario della Lega aveva firmato per i referendum promossi dal suo partito ed aveva risposto ai giornalisti con qualche piccola contestazione anche lì. Poi, giunto a Napoli, ha trovato un'accoglienza decisamente più calda. Sentiamola ai nostri microfoni. Siamo qua per il lavoro che è un problema, un tantinello più serio che non dei cori da stadio. Siamo qua per cancellare la legge Fornero e quindi restituire lavoro e pensioni che una legge infame ha rubato agli italiani, per liberarci dall'euro che è un problema per Milano, per Napoli, per il lavoro in tutta Italia e per fermare l'immigrazione clandestina. Salito in macchina il segretario ha poi rilasciato una nota. A Napoli tornerò presto. Venti ultra che inneggiano a Jenny la carogna non rappresentano una città. Ci sono tante persone per bene tanti disoccupati e pensionati che anche a Napoli hanno firmato per il nostro referendum per cancellare la legge Fornero, che vogliono liberarsi dall'euro e fermare l'immigrazione clandestina. La Lega Nord lavora per loro, non per una manciata di violenti. Nell'ambito dell'attività di prevenzione generale e di controllo del territorio a cura del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli sono stati intensificati i servizi tesi al contrasto dei traffici illeciti in genere con riferimento alla recrudescenza del fenomeno del contrabbando di sigarette. E in tale contesto i finanzieri del gruppo di Giuliano in Campania hanno individuato un capannone di oltre 500 metri quadri ubicato a Casal Nuovo in provincia di Napoli ed utilizzato quale deposito di sigarette di contrabbando. Nel locale sono due le persone che sono state sorprese mentre erano intente a caricare le bionde su tre furgoni e due autovetture per la successiva distribuzione sul territorio. Tutti i mezzi rinvenuti erano muniti di apparati radio e di sofisticati sistemi elettronici per la rilevazione di GPS microspie. Accorgimenti questi utilizzati per limitare l'uso dei telefoni cellulari ed il conseguente rischio di essere intercettati dalle forze di polizia. L'ingente quantitativo di sigarette rinvenuto all'interno del deposito, ripartito in casse da 10 kg ciascuna per complessive 12 tonnellate, era già pronto per essere immesso sul mercato. Il valore del prodotto sequestrato è stato stimato in oltre 2 milioni di euro, con un'evasione di tributi doganali per oltre 2 milioni e mezzo di euro. I due responsabili sono stati tratti in arresto in flagranza di reato, mentre il deposito, i tre furgoni e le due autovetture sono state sequestrate. Palazzo San Giacomo, Napoli, 5 maggio 2014, il simbolo. Parroco di Gerusalemme è da ora testimone della pace della città di Napoli. Il titolo al padre francescano Ibrahim Faltas è stato conferito dal sindaco Luigi De Magistris, nell'ambito di una cerimonia dal significato più ampio che prelude al forum dei sindaci del Mediterraneo, che si terrà a Napoli nel prossimo novembre. Ma ascoltiamo il primo cittadino. Sono stato testimone oculare dell'impegno straordinario che padre Ibrahim esercita in Terra Santa, a Betlemme, come economo di Terra Santa, che apri il Vangelo ogni giorno. L'esortazione che ho fatto ai tanti giovani oggi presenti è di andare in Terra Santa per lavorare per una Palestina di pace. Mi auguro molto presto convivere due stati indipendenti, Israele e Palestina, ma soprattutto il messaggio forte che viene dal basso, dai miei amici sindaci di Betlemme e Nablus insieme a noi, che non vogliamo più la guerra, che i sindaci vogliono la pace e le loro comunità sono stanche di fronteggiarsi con le armi. Quindi oggi è un messaggio forte perché Napoli si candida sempre di più a essere città della pace nel cuore del Mediterraneo. Ai tanti giovani che hanno assistito alla cerimonia, padre Faltas ha ricordato che la pace non si costruisce da sola, ma con atti di pace. Ibrahim Faltas, sacerdote dell'Ordine dei Frati Minori, custode della Chiesa della Natività in Terra Santa e parloco di Gerusalemme dal 2004, è noto per aver vissuto e partecipato alle dure vicende del conflitto tra israeliani e palestinesi, durante l'assedio armato alla Basilica della Natività di Betlemme nel 2002. In questo contesto si è distinto per la sua qualità di mediatore, ciò che attraverso il dialogo è riuscito, in quella drammatica occasione, a trovare una soluzione tra le due parti in conflitto. Il re di Napoli e la regina di Napoli hanno comprato il cinacolo, hanno regalato ai frati francescani e da quel momento lì che è un ligame sempre forte tra la custodia di Terra Santa e anche Napoli, questa è una cosa molto bella che veramente dobbiamo riconoscere che sempre Napoli sono generosi con i frati francescani della custodia di Terra Santa. Dalle profondità dell'universo alla stazione Toledo di Napoli i raggi cosmici, particelle invisibili all'occhio umano che trapassano superficie e corpi, diventano tangibili grazie a questo apparecchio che, tramite un pannello a led, può ricostruire l'esatta traiettoria del raggio. Ne spiega il funzionamento Fernando Ferroni, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Si vede quante particelle passano sulla superficie di quel dispositivo, dove uno la può paragonare con le proprie dimensioni, quella del corpo umano, fare un rapido conto e capire quanti di quei raggi cosmici passano anche attraverso il corpo umano, tenendo conto che qui siamo sottoterra, quindi in un certo senso protetti e schermati, mentre alla superficie ne prendiamo molti di più. Tra i fautori del progetto Atanasio Candela della divisione ricerca del laboratorio Gran Sasso. I cittadini napoletani questa mattina vedranno praticamente quello che normalmente nessuno vede, cioè i raggi cosmici, sono delle particelle invisibili che attraversano la terra e noi stessi. Considerate che in un'ora, diciamo, centomila particelle prodotte ai raggi cosmici si attraversano, quindi siamo praticamente una vera e propria groviera. Un gioiello della fisica piazzato in una delle stazioni metropolitane più famose della città è indicata come la più bella stazione del mondo. Vuoi per il richiamo al cielo stellato della struttura? Vuoi per catturare la curiosità dei passanti, soprattutto i giovani, e avvicinarli alla fisica? Ascoltiamo l'amministratore delegato dell'azienda napoletana Mobilità, Alberto Ramaglia. Toledo è uno dei simboli della città di Napoli, quindi ci sembrava opportuno dare quest'ulteriore possibilità. Come relazionarsi con i media all'epoca di internet? Come affrontare con l'avvento del cosiddetto web 2.0 fenomeni come il cyberbullismo, il phishing? A parlarne però non sono giornalisti esperti di comunicazione questa volta, ma ragazzi, studenti di 15 istituti del napoletano, in occasione del premio artistico Gennaro Capuozzo, giunto quest'anno alla sua sesta edizione. Tanti giovanissimi hanno affollato la sala auditorium della regione Campania e hanno fatto pervenire i loro lavori, racconti e disegni sui temi prima citati. A spiegare cosa è prevalso nella scelta dei vincitori, il presidente della commissione premiante Nicola Iasiello. Abbiamo scelto in base alla capacità di rapportarsi e di sviluppare il tema che era stato proposto appunto quello dei mass media e quindi si è cercato chi nella maniera più semplice, più autentica, più originale, era stato capace di esporre questo rapporto, di definire questo rapporto tra i mass media e la loro giovanità. A consegnare i premi ai ragazzi vincitori è il direttore della struttura Rai Vaticana, Massimo Milone, che si è intrattenuto con i giovani improvvisando una lezione sulla comunicazione ai tempi di internet, con particolare riferimento al pontificato di Papa Francesco. Un confronto ma anche un incontro, siamo nell'era della comunicazione, siamo nell'era della comunicazione del web, c'è tutta un'intera generazione di ragazzi che è nata con il computer e si è sviluppata anche culturalmente sulle strade della rete. Capire, conoscere, capire, interpretare, difendersi in particolare dai nuovi mezzi di comunicazione credo sia fondamentale per le nuove generazioni. Si è tenuta presso l'Istituto Italiano per gli Studi Storici di Via Benedetto Croce a Napoli l'inaugurazione della mostra Luoghi di Studio e di Lavoro, la Biblioteca di Croce e l'Istituto Italiano per gli Studi Storici. L'evento che rientra nel più ampio progetto del Maggio dei Monumenti, dedicato quest'anno al libro Storie e Leggende Napoletane di Benedetto Croce, prevede la visita della sede dell'Istituto nel monumentale Palazzo Filomarino con esposizione di materiali bibliografici, fotografici e iconografici conservati nella Fondazione e Biblioteca Benedetto Croce, legati alla prima stesura dell'Opera di Croce. Edizioni di pregio consultate dall'autore in fase di elaborazione dei suoi scritti, fotografie, disegni e materiali audiovisivi. Sentiamo Marta Herling, segretario generale Istituto Italiano per gli Studi Storici e Nino Daniele, assessore alla cultura del Comune di Napoli. L'omaggio e la dedica del Maggio dei Monumenti a Storie e Leggende Napoletane testimonia anche il legame di Croce con la sua città, la città in cui ha vissuto, la città a cui si è legato profondamente, tanto da indagarne storie, leggende, miti, tradizioni con cui ha vissuto e ha voluto trasmettere nel racconto straordinario del suo libro. In questo momento noi davvero con grande soddisfazione registriamo una grande mobilitazione da parte di tutti intorno al patrimonio culturale della città, al suo patrimonio storico e monumentale e tutto questo fatto con grande creatività, con grande gioia, con grande fantasia da parte delle istituzioni culturali ma io direi soprattutto perché sono i protagonisti essenziali del Maggio dei ragazzi delle scuole. Grazie a tutti.